Il giudice Giovanni Pagliuca ha disposto l'imputazione coatta nei confronti del 75enne che il 5 dicembre 2015 investì e uccise Nicola Gezza, 19enne di Esine. L'incidente era caduto attorno alle 20 sulla strada provinciale 8 all'altezza dello svincolo nord per Esine. Per chi proviene da sud, passato il lungo rettilineo che scavalca anche il torrente Grigna, la strada effettua un'ampia curva verso destra per dirigersi verso verso inferiore. Al centro di quella curva via il bivio per Esine. A quell'ora Nicola Gezza si stava immettendo quella sua moto da trial sulla provinciale quando una Mercedes, condotto da un 75enne del posto, lo ha falciato. Il ragazzo è stato sbalzato da sella ad una decina di metri di distanza. I soccorsi, giunti tempestivamente da vicino ospedale di Esine, non sono riusciti a salvargli la vita. Nicola morirà poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Inizialmente si era ipotizzato un mancato rispetto della precedenza da parte sua, ma i genitori di Nicola hanno raccolto alcune testimonianze, due in particolare, che si sono rivelate determinanti su quanto accaduto in quella terribile sera. Si tratterebbe di persone che hanno visto sopraggiungere l'auto la cui velocità non era bassa. Secondo i testimoni, la Mercedes avrebbe tagliato la curva all'altezza dell'incrocio e colpito la moto quando questa era già nella corsia di immissione. I genitori di Nicola, attraverso il loro legale, si rivolgono ad una società specializzata nella valutazione delle responsabilità, che conferisce quindi l'incarico all'ingegnere Alberto Mariani, che è riuscito a ricostruire la dinamica dell'incidente, affermando che l'auto stava viaggiando ad una velocità stimata in 94 km all'ora, in un tratto dove il limite di velocità è di 50 km orari. La moto, inoltre, sarebbe stata colpita quando stava per terminare l'immissione sulla provinciale. Inizialmente il PM Mauro Leo Tenaglia aveva avanzato una prima richiesta di archiviazione, ma l'opposizione da parte del legale della famiglia, basata sulla consulenza, ha fatto sì che da parte del GIP Pagliuca venissero restituiti gli atti al PM per un approfondimento tecnico. Per questioni che dovrebbero risultare legate alla segnalitica, il PM ha chiesto nuovamente l'archiviazione, la cui nuova opposizione all'archiviazione è stata discussa il 14 giugno. Per il giudice Giovanni Pagliuca c'è un concorso di colpa della vittima, ma il conducente dell'auto non avrebbe adottato le opportune misure prudenziali. Per questo ha deciso un invio a giudizio coatto. Ciò non significa giudizio di colpevolezza, ma necessità di stabilire ulteriori ricerche di verità.